Il commento è che finalmente c'è un quadro chiaro che si rafforza nei prossimi giorni, perché il dialogo continua anche con quella parte 18-21 che ancora in qualche modo sta giustamente, legittimamente facendo una riflessione, ma ci sono già tante esperienze e anche candidature che vengono da quell'esperienza nella lista che sostiene Nicola Botti. L'importante è non perdere l'obiettivo comune, cioè quello di dare un governo nuovo a questa città che non è un obiettivo legato a motivazioni di natura personale, ma è legato soltanto all'esigenza secondo noi di dare una prospettiva diversa a ballo. Ci sono temi importanti sui quali noi faremo la differenza con il nostro impegno, con la nostra storia e con la nostra faccia. Il primo fra tutti per quanto mi riguarda è quello della difesa dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, senza ma e senza compromessi, perché in questi anni sono accadute delle cose strane, norme regionali per esempio approvate nei cinque anni della gestione d'aldoro che consentono trasferimenti di strutture da una parte all'altra della provincia, come sta avvenendo e come avverrà nei prossimi mesi anche per Vallo della Lucania, senza nessun criterio, senza valutare il fabbisogno territoriale, senza valutare se questo le sue strutture si sovrappongono anche alle attività o ai servizi dell'ospedale stesso. Ci sono temi importanti e delicati che ci distinguono, rispetto alla quale c'è chi in questi cinque anni ha fatto una battaglia di facciata e chi invece continua a fare una battaglia vera a difesa secondo noi dell'istituzione più grande e più importante di tutti, che è l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ecco, questo è il primo motivo valido per scegliere Nicola Botti, candidato sindaco. Ecco, in merito ad Ufficina 1821 si sente di aggiungere qualcosa rispetto a quello che è stato già detto, ecco, tante versioni, ognuno ha detto la sua. Lei cosa ci dice? Ma guardi, io ho avuto ed ho un colloquio costante giornaliero con quella esperienza, diciamo, in tante persone, in tante manifestazioni, ripeto, una parte ha aderito al progetto di Nicola, altri stanno sicuramente riflettendo e valutando. Io confido molto nell'intelligenza e nella sensibilità di persone molto valide e molto capaci che possono dire la loro, come Marco Sansone, come Nunzia Di Giacomo, sono persone che hanno rappresentato anche nel loro percorso una piccola storia di impegno col commercio, su tanti temi della città. Quindi io sono assolutamente fiducioso che questo percorso potrà incrociarsi nei prossimi giorni. Sicuramente, per quanto mi riguarda, c'è e ci sarà sempre un dialogo e un confronto aperto sulle cose da fare e soprattutto su una prospettiva che Vallo è il comune capofila di questo territorio e che nel nostro territorio c'è grande attenzione in questo momento per quello che accadrà nel futuro e per il futuro della città di Vallo. Quindi credo che la nostra partita sia una partita importante e sia una partita che dobbiamo giocarci anche stando dentro un territorio. In questi anni Vallo, al di là di qualche manifestazione così molto di apparenza, ha pesato poco nella politica territoriale. Io credo che possiamo ritessere questo telo, ricostruire questo rapporto e credo che anche la presenza di figure istituzionali importanti che verranno a Vallo nei prossimi giorni sarà pure la testimonianza di questo percorso che inizia a rimettersi in moto. Penso che con Nicola Botti possiamo coniugare le due cose, stare dentro un territorio e starci con una proposta politica credibile e rinnovare anche un po' la classe dirigente. Credo che per quanto mi riguarda è una necessità che in questo momento vedo per la città e sono convinto che molti cittadini di Vallo sentono e avvertono. Ha dato un'occhiata alle altre liste? Sì, ho dato un'occhiata, tutti candidati dignitosi, ma non è un problema ovviamente di persone, ma è un problema di progetto politico. Dentro la proposta di Nicola Botti ci sono le cose che ho appena detto e tante altre, perché aspetta poi anche i candidati a fare la propria campagna elettorale e sviluppare i propri temi. Sicuramente ci sono alcune battaglie di principio e di fondo sulle quali noi non vogliamo più cedere. Primo fra tutti la difesa di un'istituzione per la quale, come l'ospedale San Luca, per la quale i nostri padri hanno buttato il sangue, ci sono sacrifici. Una volta quell'ospedale era ricordato come il posto dove si realizzavano le eccellenze della campagna. Oggi le difficoltà sono tante, non sono difficoltà casuali, sono difficoltà nate da politici che non hanno difeso l'ospedale. in questi anni come avrebbero dovuto fare nel loro ruolo istituzionale. Sono nate da battaglie tradite come quelle di cinque anni fa che mi convinsero per esempio a sostenere Tony Aloi come candidato sindaco. Sono nate da tante questioni, norme regionali come le dicevo assolutamente impropri, che però non sono frutto del caso, sono frutto evidentemente di scelte di chi in questi cinque anni di regione ha condizionato la politica. Noi vogliamo cambiare verso, come direbbe il mio Presidente del Consiglio e lo vogliamo fare, però questa volta veramente investendo su un gruppo nuovo di persone che non hanno interessi, che non devono tutelarsi in nessun modo. L'unico interesse che hanno, credo, di poter dire, vedendo le loro storie, i loro volti, è quello di mettersi a disposizione con passione al servizio della propria città.